Capodanno in piazza, anzi in tenda, ma questa volta si tratta non di una tenda della protezione civile, ma di una speciale per fare festa. L'amministrazione comunale di Guglionesi è infatti organizzato per la comunità e per quanti vorranno festeggiare insieme l'inizio del 2019 un evento in piazza Castellara, dove già è stata allestita una tenso struttura riscaldata che la sera del 31 dicembre ospiterà una grande festa. Prima un aperitivo in programma alle 18.30 e quindi alle 23 via alla musica e brindisi con i sunset e la dance anni 80 per salutare l'anno nuovo, a seguire fino all'alba DJ set Rosolino con ballo e animazione. Una scelta quella dell'amministrazione guidata da Mario Bellotti che intende offrire un segnale di unità e partecipazione alla popolazione del paese che quest'anno è stata colpita dal terremoto di agosto e da altre calamità naturali. Abbiamo bisogno di ritrovarci e di brindare insieme come comunità e come amici per ripartire al meglio e per sentirci tutti coinvolti da un progetto di rinascita e miglioramento che Guglionesi merite al quale dobbiamo dare tutto il nostro personale contributo, ha dichiarato il sindaco Mario Bellotti. Anche il comune di Termoli, come da alcuni anni a questa parte, ha organizzato il Capodanno in piazza. L'appuntamento è in piazza Monumento con il DJ riminese Teddy Romano a partire dalle 23. Per l'occasione il sindaco Angelo Sbrocca ha emanato un'ordinanza con cui si vieta il trasporto e l'utilizzo di fuochi e petardi nell'area di piazza Vittorio Veneto, interessata dall'evento e in un raggio di almeno 100 metri dalla piazza. E' vietata anche la vendita di bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia, lattina o contenitori in vetro.